Oggi intervistiamo In due parole, perché il ciclismo? L'atleta avversaria che stimi maggiormente? La gara che sogni di vincere? C'è qualcosa che vorresti dire liberamente che non va del ciclismo femminile? A chi vorresti dedicare la prima vittoria? Ai miei genitori. Cosa pensi del doping? Che chi ne fa uso è vergogna o offesa nel nostro sport. Se dico Brunello Fanini, cosa mi dici? È un film. Chi tra i tuoi compagni crede farà un grande 2015? Tutto il team farà un grande 2015. Cosa prometti oppure ti aspetti da questo anno? Prometto e mi aspetto di rendere fiero che ha creduto in me anche quest'anno. Facci vedere la tua espressione quando sei concentrata e cattiva, come prima di una gara. Ora un'espressione dopo una gara, quando sei soddisfatta. Saluta chi ci segue e nel modo che ti piace. Lara Viecile, un atleta a cui puoi contare, un atleta che ha il terzo anno con me e sono sicuro che quest'anno farà un grande salto di qualità. Aspettate e le vedrete.